Musica Musica la mia corsa 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 bravo un'altra scuola noi stiamo qui ci siamo credo che i loro saranno qui la colo no 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 questo bairam vogliamo di osservare in un modo spontane vedete le tre coreografie vedete la nostra piccola sportista, karate e il resto è il gruppo malo ćemo слушare muziche malo ćemo игрare quindi vogliamo di включare i voi con il dobrodovaccio vogliamo di appartamento il bairam 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 Horeografia se zove Prošetale 3 Diovojke. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.